Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su chiacchiere tra le righe e il video di oggi è l'introduzione al mio avvento tra le righe come avete visto nel titolo di cosa si tratta ho deciso che farò un video al giorno dall'1 al 24 di dicembre, ho dibattuto se farò dall'1 al 25 però alla fine ho pensato che il 25 saremo tutti impegnati a festeggiare e quindi ho deciso alla fine di farlo fino al 24 ci saranno sia video prettamente natalizi, alcuni più invernali che natalizi dovrò mettere naturalmente poi anche dei video della programmazione normale tipo il classico Google piuttosto che il wrap up e poi ci saranno anche dei video, cioè nei miei piani ci sono anche dei video un pochino diversi tipo dei video un po' più craft dove faccio dei lavoretti a tematica natalizia tipo dei segnalibri piuttosto che delle decorazioni per la mia camera insomma volevo provare a portare anche qualcosa di un pochino diverso rispetto alle cose che faccio di solito per movimentare un po' questi video che farò dall'1 al 24 ah e se riesco anche qualcosa magari sui film natalizi come avete visto abbiamo compagnia oggi ma non sarà solo oggi perché per aggiungere questo elemento un po' più natalizio ho deciso che metterò uno di questi cerchietti natalizi in tutti i video della sequenza dall'1 al 24 saranno diversi alcuni non so se effettivamente avrò il coraggio di metterli perché alcuni sono veramente tamarri non so se avrò il coraggio di farveli vedere ora so che dicembre sarà un mese un po' particolare un mese in cui normalmente noi cominciamo a sentire l'eccitazione per il periodo natalizio quindi è un periodo che per tante persone per la maggior parte di noi è un periodo positivo un periodo allegro purtroppo quest'anno non sarà così per la situazione che stiamo vivendo e a seconda delle eventuali restrizioni o meno che ci saranno nel periodo natalizio potremo vivere magari non molto bene questo periodo tuttavia con questa mia sequenza di video spero nel mio piccolo di riuscire a regalarvi quei 15-20 minuti o quella mezz'oretta di leggerezza quotidiana che magari vi strappi un sorriso o semplicemente vi distragga un po' da eventuali preoccupazioni mi rendo conto che i miei video non vi cambieranno la vita ragazzi perché ovviamente non aspiro tanto e mi rendo conto che nell'economia di YouTube e dei creator e della loro presenza su YouTube io sono talmente piccola come canale da non essere nessuno però spero per coloro che mi seguiranno di riuscire a dare quei 15-20 minuti di evasione e di leggerezza spero che apprezzate questa mia iniziativa e spero che vorrete farmi compagnia nei video che usciranno e quindi che vorrete farmi compagnia fino al 24 una cosa allora sfida dei video che usciranno quindi dal 1 dicembre siccome io l'ho chiamato avvento tra le righe che dovrebbe essere un po' un po' sulla falsa riga del termine calendario dell'avvento la sfida sarà che in tutti questi video anziché dire video dovrò dire casellina perché quelle saranno le caselline del mio calendario dell'avvento questo dovrebbe essere un pochino l'idea magari fa un po' ridere detta così però l'idea dovrebbe essere un po' questa quindi questo dovrebbe essere solamente un video annuncio per dirvi che cosa succederà il primo video effettivo arriverà tra 1 o 2 giorni detto questo direi che ho finito era come vi ho detto solamente un video annuncio quindi non era pensato per essere un video lungo spero ancora una volta di avervi incuriosito e se vi va ci vediamo tra 1 o 2 giorni con il primo video un bacione, ciao ciao ciao